Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV, una buona settimana a tutti i telespettatori, riprendiamo l'appuntamento con l'informazione, in apertura alcune notizie flash di Cronaca, sarà un telegiornale incentrato su quanto accaduto in questo weekend tra Cronaca come detto, ma anche politica e attualità, chiuderemo poi con lo sport, è scesa in campo sabato scorso la Virtus Libera Isola di Ischia, ma partiamo come detto dalla Cronaca, gli agenti del commissariato di Ischia durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel transitare in via Cumana a casa Micciola Terme hanno notato un uomo e una donna a bordo di un'auto e il conducente alla loro vista ha accelerato la marcia per eludere il controllo, i poliziotti hanno inseguito l'auto fino a via provinciale Lacofango, Lacquameno dove hanno identificato e controllato i due, trovando l'uomo in possesso di un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 8 cm e di una dose di cocaina del peso di circa 1,4 g, inoltre presso l'abitazione della coppia hanno rinvenuto in un armadio altri tre involucri contenenti complessivamente circa 34 g della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L'uomo, un 44enne ischitano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E sempre nell'ambito del contrasto alla droga anche sull'isola di Procida c'è stato un importante intervento, in questo caso dei carabinieri hanno 16 e 17 anni e quando i carabinieri con il personale dell'ufficio circondariale marittimo li hanno visti si pensava stessero pescando, ma in realtà non era così, o meglio l'obiettivo di due, non era trovare frutti di mare o pesci di altro genere. Ci troviamo a Procida nella località Puntafaro, i militari della locale stazione stanno effettuando un servizio di controllo del territorio. Da lontano due ragazzini che si sporgono sulla banchina come a prendere qualcosa in acqua, chi li vede si preoccupa, quei due ragazzini potrebbero cadere e si decide allora di avvicinarsi. I minori che sono del posto incensurati alla vista dei carabinieri vanno nel panico, tra le mani hanno qualcosa, i due avevano appena recuperato in mare una busta con all'interno 4 tavolette di hashish per un peso complessivo di 400 grammi. Gli accertamenti dei carabinieri, gli smartphone dei giovani sono stati sequestrati, hanno permesso di accertare come i due sapessero di quella busta in mare e del suo contenuto. I minorenni sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio e consegnati ai rispettivi genitori sono in corso le indagini. Apriamo la pagina dedicata alla politica e all'attualità. Domenica si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del centro polifunzionale Giovanni Paolo II di Fiaiano. I lavori di ristrutturazione che hanno interessato il complesso sono stati realizzati con fondi del Ministero dell'Interno, 100 mila Euro e con residui di precedenti mutui, per un importo complessivo di 250 mila Euro, grazie ai quali sono stati rinnovati i locali interni, posti sotto le tribune ed il campetto. Il complesso sportivo è stato dato in concessione alla bodyball e dance di Paolo Massa. Il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso, ai nostri microfoni ha commentato la nuova apertura del centro e le opere che la sua amministrazione sta portando avanti per le strutture sportive e le aree giochi destinate ai giovani. Ascoltiamo l'intervista. Sindaco Dionigi Gaudioso, un po' di attesa ma alla fine viene inaugurata questa struttura che riporta nuovamente uno spazio di socialità alla comunità di Fiaiano. Oggi è un giorno importante non solo per Fiano e per il comune di Barano ma penso per l'intera isola perché abbiamo ripreso una struttura importante, il comune ha speso più di 250 mila euro per metterlo a posto. Purtroppo per la burocrazia ci è voluto un po' di tempo per partire, tra gare, ricorso e vari problemi ma oggi guardiamo avanti. C'è un'associazione consolidata che da più di 30 anni è presente sul territorio ischitano e che l'ha vinto la gestione, quindi parliamo di Paolo e Anna Massa. Già si è avviato tutto, le due salette della palestra sotto le tribune già stanno funzionando alla grande, quindi da domani si partirà anche col campo. È una cosa importante dare possibilità ai giovani, ai ragazzi di avere spazi a loro disposizione nel miglior modo possibile, veramente per me è un giorno di gioia, ripeto, per tutti qua, non solo per il comune di Barano ma un po' per tutti. Certamente, io l'ho detto già prima, chiede al posto, viene sul posto, vede i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo fatto un intervento, forse uno dei più importanti probabilmente nella provincia di Napoli, intervento di 500 mila euro di riforestazione, taglio di pini secchi, c'è ancora qualcosa da fare, ma 1500 piante piantate più l'irrigazione, quindi siamo pronti anche a un'eventuale estate torrida per contrastarla, quindi con l'impianto di irrigazione. Questo è diventato la pineta, diciamo, un grande punto di antiaggregazione per i ragazzi. Noi abbiamo un chiosco che funziona benissimo, un parco giochi libero per i bambini e dei percorsi che sono ancora di più migliorati, veramente bellissimi, quindi io mi aspetto grandi cose per l'estate in questa zona. Per quanto riguarda il campo Don Luigi Di Orio col PNR abbiamo preso un finanziamento di più di 600 mila euro, quindi verrà rifatto il tappeto perché ormai era usurato e se tutto va bene nel giro di qualche mese inizieremo i lavori, si deve fare solo la gara e aggiudicare la gara, quindi un altro passo avanti sempre a favore dei giovani, perché io l'ho detto già prima, i giovani sono come le piante, più si curano, più crescono bene e più vanno avanti bene, quindi dobbiamo cercare i cittadini del futuro di stare accanto a questi ragazzi per farli crescere nel miglior modo possibile. Certamente noi non possiamo pensare solo a calcio, l'ho detto dall'inizio, quindi a parte la palestra che ormai là ci sono più di 150 iscritti per i basket, poi si fa anche la pallavolo, ma a giorni verrà inaugurata anche a Piedimondo a Mataraci un campo playground libero, quindi a messa a disposizione dei ragazzi dove si potrà fare basket, pallavolo o calcio proprio per diversificare, quindi stiamo cercando di andare incontro ai giovani con tutta la nostra forza possibile. Questa iniziativa era partita già con la chiesa da qualche anno, se ricordiamo la saletta sotto la chiesa a Fiano, Antonia Spedicata, un'altra ragazza di Fiano venuta a Mena prematuramente e anche questi ragazzi, quindi è giusto che si devono ricordare, è giusto che i ragazzi quando si vengono a divertire vedono queste scritte all'ingresso e quindi si ricordano di loro fratelli o di loro sorelle che sono purtroppo scomparse prematuramente perché noi non ci dobbiamo dimenticare dei disgrazi che abbiamo avuto. Danza, fitness, spinning e calcio a 5, il nuovo centro Giovanni Paolo II inaugurato dalla nuova gestione di Paolo Massa e dalla sua body, balle e dance abbraccerà diverse discipline sportive dopo diversi anni di inutilizzo, come abbiamo visto la struttura è stata interessata da lavori e dopo una procedura di gara è stata affidata alla nota associazione sportiva che ha voluto apportare migliorie alla struttura. La sala danza, la sala fitness e il campo sono tra l'altro intitolati a tre giovani schitani che non ci sono più, Artemisia Massa, Paolo Scaglione e Flavia Boccanfuso. Nel servizio le parole di Paolo Massa. Finalmente ci siamo, veramente è stato un calvario perché come dicevo prima, adesso in questo momento l'edilizia è difficile anche trovare un manuale, quindi rimettere insieme una struttura come questa che poi tra l'altro sarebbe stato meglio forse rifarla da capo, che riadattare delle situazioni è stata una bella impresa, però ce l'abbiamo fatta. Come avete immaginato questo spazio Paolo in termini di attività, raccontiamo come li avete anche organizzati questi spazi e quindi come poi i ragazzi ne potranno soffrire? Allora noi lo spazio che abbiamo visto prima, abbiamo visto proprio la zona e la comunità, il discorso di venire in una comunità a noi ci affascina molto, quindi interfacciarsi con le persone del posto è veramente un qualcosa che ci permetterà in futuro di fare, voi sapete che noi bene o male siamo sempre presenti a spettacoli, quindi questa struttura a noi ci porta a fare un qualcosa che possiamo gestire noi direttamente. L'idea è stata quella di renderlo più polifunzionale perché in effetti qui c'erano molti spogliatoi ma una palestra molto piccola e quindi abbiamo adattato un po' tutto e farla diventare un po' più polifunzionale creando una terza sala, allargando la sala che c'era precedentemente che era molto piccola e rendendo un po' anche più funzionalità abbiamo creato anche degli spazi anche di condivisione con le persone, qui chi giocherà a calcetto c'è un luogo dedicato dopo la partita, metteremo anche post goal quindi i ragazzi avranno modo di vedere le partite, di rivedersi la partita, noi cerchiamo di creare quello che è un po' stata sempre la famosa body bullet dance family, allargarla ancora di più. La terza sala dove nasce come sala pesi però a parte che oggi è un mercato anche abbastanza inflazionale, ce ne sono parecchie di sale pesi, quindi abbiamo provato anche lì a portare qualcosa di nuovo dallo spinning e sarà poi quella anche una sala multifunzionale. Paolo, tante sale intitolate a tanti giovani che purtroppo non ci sono più ma che raccontano una storia e rappresentano un esempio per i giovani che verranno in questa struttura. Certo sì, a parte Misia, poi anche Flavia la racconta di una ragazza che ha vissuto comunque con tanto amore dei genitori, nonostante la sua disabilità, era comunque un esempio di forza per noi e poi al di là di tutto io verso Flavia, verso Domenico veramente c'è un rapporto proprio così perché Domenico ci ha salvato, lui era della body bullet perché quando abbiamo avuto i problemi lui ci ha ospitato a braccia aperte e quindi per noi Flavia è stato veramente un vero angelo per la body bullet dance. Paolo, a prescindere che non rimasi colpito perché quando muore un ragazzo giovane in quel modo, cioè tu comunque, per noi che già avevamo provato un dolore quindi io a Pietro e Antonella è stato, noi ci possiamo capire, solo noi genitori che ha avuto questo problema e quindi per me era avere un campo e mi è venuto in mente di Paolo, di Pietro e quindi che ben vengono questi tre angeli che accompagnano questa struttura. L'attualità era stata recuperata ad ottobre nel mare delle Olie alla deriva con un amo infisso nell'esofago, operata ad urgenza al Turtle Point della stazione zoologica Anton Dorn, la tartaruga Gigetta ha riconquistato la libertà questa mattina nel mare di Ischia, nell'ambito del progetto Caretta in Vista, negli spazi della Guardia Costiera a Sant'Angelo insieme agli esperti della stazione zoologica Anton Dorn, Gigetta è stata dapprima presentata ai tantissimi bambini delle scuole elementari e successivamente accompagnata a largo dell'isolotto di Sant'Angelo per donarle la libertà nelle acque del Regno di Nettuno. Vediamo il servizio di Elena Mazzella. Qui oggi per la liberazione di Gigetta, questa tartaruga che era stata recuperata a causa dell'ingestione di un amo e di una lenza, cosa che capita spesso purtroppo, una delle più grandi problematiche per gli esemplari che arrivano al nostro centro ed è un momento importantissimo perché anche i bambini possono vedere effettivamente questi animali che sono molto carismatici e riescono ad attirare l'attenzione anche su altre problematiche. Questo animale è rimasto con noi all'incirca un anno, ci sono periodi di riabilitazione più brevi per magari problematiche meno rilevanti quando c'è anche una parte di chirurgia e di riabilitazione più lunga effettivamente riescono a stare con noi un anno o più. Verrà monitorata? Questi animali hanno delle targhette metalliche che vengono applicate alle pinne che non danno assolutamente fastidio all'animale e su cui scriviamo un codice che è un codice identificativo appunto dell'esemplare e ci permette di conoscere la storia anche clinica. Se dovesse arrivare in un altro posto, in un altro centro di recupero potranno sapere effettivamente qual è la storia. Per altri esemplari si può applicare anche un trasmettitore satellitare ma su esemplari più grandi solitamente. Il momento della liberazione è il momento finale di un percorso di cura e riabilitazione, sono due fasi abbastanza distinte nel recupero di una tartaruga. Normalmente noi abbiamo una rete di assistenza anche sul territorio che è costituita dalla Guardia Costiera, da altre forze dell'ordine ma anche da molti volontari di associazioni ambientaliste che ci supportano e quindi ci aiutano anche gli stessi pescatori, molto spesso sono degli alleati importantissimi per noi e quindi quando c'è una tartaruga in difficoltà questa tartaruga viene trasferita in pronto soccorso al centro di recupero di Portici di cui io sono il veterinario, il responsabile veterinario e quindi si deve innanzitutto fare una diagnosi per capire qual è il problema che ha portato questa tartaruga a essere recuperata in difficoltà e poi si fanno le cure. Molto spesso riusciamo a recuperare completamente uno stato di salute idoneo per poter essere compatibile con la vita in natura. Alcune volte purtroppo riusciamo a recuperare uno stato di salute che però poi resta associato a delle menomazioni come per esempio in molti casi in cui le pinne vengono amputate dalla presenza di cordami e quindi dobbiamo ben valutare poi nella seconda fase, quella di riabilitazione, se questo animale è in grado di poter sopravvivere in natura. La cosa molto importante che stiamo facendo oggi è proprio quella di mostrare ai bimbi tutto questo percorso, questo percorso di riabilitazione degli animali selvatici perché loro abbiano già in tenere l'età, proprio l'età migliore per poter inculcare questa idea di rispetto dell'ambiente marino, dell'ambiente naturale proprio per la protezione degli animali. Molto bello perché è un'attività fatta in collaborazione, non è solo l'area marina, c'è l'area marina, c'è l'acqua di serrari, c'è la capitale del rieliporto, c'è la stazione zoologica, quando queste attività vengono fatte sulla spiaggia c'erano i bambini, le scuole, quindi quando queste attività vengono fatte così in collaborazione fra tutti è perché c'è una sensibilità nei confronti della protezione del mare e questo non può che fare piacere. Siamo veramente felici di poter raccogliere questo evento con questa liberazione di questo magnifico animale che ha circa tre anni, è stato curato e con la stazione d'or nell'area marina protetta abbiamo concordato appunto che questa liberazione avvenisse qui nel mare di Sant'Angelo e abbiamo voluto coinvolgere un po' le scuole del territorio perché questi questi eventi sono rari ma soprattutto sono sempre veicoli di grandi emozioni, un evento che è teso anche sempre di più alla sensibilizzazione dell'ambiente del mare, la tutela dell'ambiente marino, ecco di come seguiranno anche dopo degli incontri su come veramente comportarsi in presenza di questi animali soprattutto nel periodo della nidificazione e appunto di come avere cura di loro. Ancora all'attualità è stato definito profeta della medicina l'inimenticabile dottor Vincenzo Di Meglio scomparso prematuramente tre anni fa per la sua capacità di vedere prima degli altri cose che si sarebbero realizzate. Quanto emerso dal volumetto a lui dedicato, ideato in principio dalla dottoressa Lucia Esposito è realizzato poi in collaborazione con la dirigente Assunta Barbieri che ha saputo coinvolgere gli studenti del liceo in questo progetto e presentato da Mauro Giliberti sabato scorso nella sala conveni del Museo Diocesano a Ischia Ponte. Il liceo ha dato inizio al progetto nato da un'idea della dottoressa Esposito, afferma la dirigente Barbieri che si è espressa soprattutto in qualità di ex paziente del dottor Di Meglio definendolo persona sensibile, empatica, pacata e con una capacità narrativa fuori dal comune. L'idea è nata nell'esatto momento della scomparsa, sottolinea la dottoressa Esposito, urgenza di raccontare esperienze da pazienti al fine di ispirare le future generazioni di medici attraverso la straordinaria modalità del dottore. Così è nato Ricerchiamo in collaborazione con il liceo Buchner, i risultati della ricerca che hanno consentito di giungere a questo libro curato da Ciro Cenatimpo. Per il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino è stato un uomo che ha saputo caratterizzarsi per il suo slancio umano e la capacità di curare anche l'anima del paziente. Vediamo il servizio. Questo è un libro dedicato a Vincenzo Di Meglio, una figura speciale per l'isola di Ischia, un medico che ha salvato tante vite, che è stato sempre disponibile per tutti, che ha fatto della generosità, della lealtà, della disponibilità e della ricerca continua il suo modo di essere sia uomo che medico. È una figura indimenticabile dedicargli questo libro al termine di un progetto che è cominciato nella scuola, nel liceo classico di Ischia. È il minimo per ricordarlo, ma soprattutto per investire nel futuro attraverso la sua memoria sulle nuove generazioni, sui ragazzi che frequentano le scuole superiori, su quelli che andranno all'università e vorranno fare il medico. Questa è la mission di questo libro e noi ci siamo dedicati, noi tutti, io che ho curato questo lavoro, con grande amore, con grande passione, per quanto mi riguarda, nel segno di un'amicizia straordinaria con Vincenzo. Vincenzo non aveva segreti, aveva la disponibilità e, ripeto, la generosità e soprattutto sapeva parlare con i pazienti per ore per metterli a proprio agio. Era in grado di analizzare tutto il corpo e anche la mente dei suoi pazienti, sia come specialista oncologo e chirurgo, sia come medico di base, perché si è dedicato sempre alla gente dell'Isola Dischia e non solo dell'Isola Dischia, perché ha operato anche altrove e soprattutto aveva un riferimento, appunto, come si dice, olistico nei confronti della medicina e della cura e lui si prendeva cura di tutto il corpo e dell'anima dei pazienti. Questo era il suo modo di essere, sempre orientato, tra l'altro, alla ricerca, ricerca che ha continuato per tutta la vita, soprattutto il riferimento al Johns Hopkins University Institute di Baltimore, negli Stati Uniti, con i quali ha mantenuto un legame continuo. Quindi la ricerca e la disponibilità, l'affetto e la passione, queste sono le caratteristiche di un uomo popolare al quale rendiamo omaggio. Oggi siamo qua per presentare questo libro, Testimonianze dei pazienti del dottore Vincenzo Di Meglio, un medico e cittadino di Barano, quindi uno dei cittadini illustri del nostro comune, che ha fatto tanto per la fascia debole, non solo per il comune di Barano, ma per tutta l'isola di Ischia. Sappiamo che chi andava in difficoltà, quando riguarda parliamo di malattie oncologiche, lui era esperto di un senologo, trovava sempre la porta aperta con il dottore che lavorava H24, non veramente disponibile per tutti. Quindi penso che è una giornata importante ed è giusto ricordarlo. Lui era uno studioso, lo sappiamo tutti, teneva questa passione per lo studio che poi ha portato nella medicina e fortunatamente ha aiutato tantissime persone. Purtroppo ritengo che è morto prematuramente perché poteva dare ancora tanto nel nostro paese, non solo, anche se dobbiamo ricordare che lui ha cercato di spesso spingere sulla prevenzione. Quindi è una cosa che noi dobbiamo fare come comune e stiamo cercando di fare. Abbiamo fatto più volte delle iniziative sulla prevenzione, ma dobbiamo continuare tutti in questa direzione. A Roma, presso la Santa Sede, il giorno 17 maggio alle ore 9, il Comitato Nazionale per le celebrazioni dedicate ad Enrico Caruso, presieduto da Franco Iacono, è stato ricevuto da Papa Francesco. È stato un onore poter illustrare al Papa l'attività del Comitato Nazionale in questi due anni, dichiara il Presidente Iacono, ci riempie d'orgoglio l'apprezzamento del Santo Padre e la cordialità con cui ha accolto la delegazione, degno a suggello al 150esimo anniversario della nascita di Caruso. Guardiamo il servizio. Presso la Santa Sede, il 17 maggio 2023, alle ore 9, il Comitato Nazionale per le celebrazioni dedicate ad Enrico Caruso, presieduto da Franco Iacono, è stato ricevuto da Papa Francesco. Al Pontefice, appassionato di musica classica, è stata donata la Bohemia Acto I, la straordinaria originale dell'edizione musicale Ricordi, riduzione per canto e pianoforte con testo spagnolo della Bohème di Giacomo Puccini del 1903, consegnata per l'archivio storico Ricordi dal direttore Pierluigi Ledda. Al Santo Padre, che ha benedetto i membri del Comitato, sono stati regalati anche i complete recordings di Caruso in CD, preziosa edizione Naxos è una ricerca curata da Laura Valente sulla presenza di Enrico Caruso in Argentina, oltre che la biografia di Pietro Gargano dedicata al grande tenore. È stato un onore poter illustrare al Papa l'attività del Comitato Nazionale in questi due anni, dichiara il presidente Franco Iacono. Ci riempie di orgoglio l'apprezzamento del Santo Padre e la cordialità con cui ha accolto la delegazione, degno sugello al 150esimo anniversario della nascita di Caruso. Fra i presenti anche Franco Moretti, direttore generale del Festival Pucciniano di Torre del Lago e Stefano Pozzoli, amministratore del Comitato Nazionale. È stato un grande privilegio essere ricevuti da Papa Francesco. Credo che Enrico Caruso meritasse questo ulteriore omaggio. Il Papa, grande appassionato di musica classica, ha molto apprezzato i doni che gli abbiamo portato, a cominciare da un cofanetto di CD con le più importanti interpretazioni del grande tenore, insieme alla biografia scritta dal nostro Pietro Gardiano. Chiudiamo con lo sport, calcio a 5, una partita letteralmente stregata. La Virtus libera cade nella gara di andata della finale play-off, subendo 5 reti da una canottieri belluno cinica e diligente in fase difensiva. Per gli isolani che giocano una buona gara resta il rammarico di non aver concretizzato le numerose palle gol costruite per sfortuna e per bravura del numero 1 ospite dalla libera in alcuni frangenti della gara davvero insuperabile. Il sogno a 2 per mister Di Costanzo e dei suoi ragazzi si complica, ma il gruppo bianco-verde nel corso degli anni ci ha insegnato che nulla è impossibile, anche le imprese più difficili. Gara di ritorno sabato prossimo in Veneto, intanto ascoltiamo le dichiarazioni post partita di mister Di Costanzo. Sapevo che il Belluno era una squadra cinica, avevo sottovalutato il loro tasso di fortuna, però noi non siamo stati capaci di fare gol nei momenti importanti, nei momenti decisivi e in alcune occasioni abbiamo peccato un po' troppo di presunzione, per cui loro che sono una squadra che aspettano questo ci hanno punito. Forse troppo, però meritavamo sicuramente molto di più, però dovevamo essere capaci. Non lo siamo stati, sono stati bravi loro a difendere sempre compatti, uniti. Il portiere, come avete potuto vedere, ha spesso fatto interventi importanti. A noi è mancato questo oggi. Forse siamo arrivati a questa gara un po' troppo carichi, però da questo dobbiamo sicuramente trarne degli insegnamenti. So che a lei non piace parlare molto degli arbitri, però io la domanda la devo fare, perché se a 30 secondi di gioco lì non si ammonisce, poi si ammonisce Moraes, il secondo giallo lì poi è rosso, si è in superiorità numerica, lì è stato un errore abbastanza evidente. Poi l'episodio del mancato tiro libero del 3-0 forse hanno un po' condizionato la partita. Allora io penso, questa cosa non la vorrei far sentire ai miei giocatori, penso che questa è stata una partita stregata, come tu hai detto poco fa le streghe, però purtroppo questo sport è così, è uno sport dove ci sono repentini cambiamenti di fronte, per cui l'arbitro non ti dà il fallo, ti ammonisce nel momento sbagliato, ti dà un fallo quando magari non c'è. Noi oggi dobbiamo fare gol, non siamo riusciti, voi per i pali, voi per le traverse, voi per la mancanza dell'ultimo passaggio, spesso abbiamo peccato di presunzione giocando con troppe individualità e quindi 1-0, 2-0, 3-0 diventa sempre più difficile quando una squadra che ne fa della difesa la loro ottima arma. Poi nelle poche occasioni che hanno avuto la gol, sono riusciti a farci gol magari in contropiede, quell'altra occasione quando ci aspettavamo un fallo ma che l'albero non ci ha dato, quindi è vero, io non parlo mai degli albitri, non credo che loro possano determinare una gara, forse oggi ci è mancato qualcosa, sia la parte nostra sia la parte della direzione arbitrale. Oggi l'unico vincitore di questa partita è il Belluna, è venuto qua a fare la solita gara e noi non abbiamo fatto la nostra solita gara. E in vista del ritorno del secondo tempo come si recupera una partita? Bisogna segnare quattro reti per lo meno per andare ai supplementari? Io sono sempre fiducioso perché noi siamo una squadra che abbiamo delle grosse capacità realizzative, oggi non ci siamo riusciti e magari ci possiamo riuscire la settimana prossima. L'impresa è ardua ma come dire la storia è fatta di utopie che si sono realizzate quindi se la settimana prossima andremo a Belluno come siamo noi a Messina e facciamo una partita diciamo questo sport ci vuole poco per ribaltare il risultato. Difficile perché loro hanno dimostrato oggi fuori casa con questa bellissima cornice di pubblico di essere una grande squadra però noi andremo a Belluno per giocare la nostra partita in settimana, lavoreremo sui errori che abbiamo fatto. Certo non puoi lavorare contro il palo l'attraverso contro la decisione arbitrale che è mancata però sicuramente dovremo lavorare su quella carica emotiva che è stata un po' troppo influente oggi in questa gara. Mister per quanto riguarda noi la chiusura una battuta su questo pubblico oggi veramente sold out a tutti i livelli ci voleva un altro pala casale per contenere tutte le persone forse magari questo ha dato troppe emozioni in più rispetto diciamo alle gare normali perché poi ricordiamo il Belluno milita da anni tra la 2 e la B forse sono arrivati con più esperienza rispetto a noi. No vabbè io penso che oggi il Belluno ha fatto una buona partita il portiere ha fatto molti interventi decisivi nei momenti importanti. Certo è una squadra che è esperta non ha paura a giocare davanti a un pubblico che oggi è stato bellissimo anzi mi dispiace veramente mi dispiace molto per il pubblico oggi volevo assistere a una bella manifestazione ma credo che il pubblico in un certo modo si sia divertito non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto fino adesso questa sconfitta sicuramente non deve cancellare quanto di buono questi ragazzi hanno fatto fino adesso è una finale si sa e quindi le finali si possono vincere e si possono perdere ma è finito il primo tempo siamo 5 con il Belluno faremo il secondo tempo vincerà il Belluno vincerà il Forio non lo sappiamo ci prepareremo questa settimana affronteremo questa trasferta e daremo sicuramente il meglio di noi stessi continueremo almeno il percorso che abbiamo intrapreso da quando sono io in questa squadra poi non posso fare altro fine partita che vinciamo perdiamo di fare un pauso a questi ragazzi e comunque io credo che siano arrivati molto in alto prima di salutarci come sempre diamo uno sguardo alle previsioni meteo amici trevi meteo bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà ancora l'assenza di un'area di alta pressione sul Mediterraneo e su Italia al contrario l'alta pressione è ben salda sul nord Europa in particolare sulle isole britanniche quindi da noi atmosfera molto instabile per le infiltrazioni di correnti di aria umida e appunto instabile lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità non mancheranno ampie zone di sereno soprattutto al mattino ma poi nel pomeriggio si formano numerosi annuvolamenti a ridosso delle zone montuose sia al nord che lungo la dorsale appelliniche molti di questi daranno luogo a piogge e acquazzoni vediamo anche infatti la previsione delle precipitazioni sul nostro paese nelle ore pomeridiane vedrete spuntare numerose macchioline azzurre a ridosso dell'arco alpino e lungo la dorsale appellinica in parte coinvolte anche le zone di pianura del nord ovest e il versante tirrenico quindi in definitiva ci attende un martedì che parte con ampie zone di sereno però poi a pomeriggio acquazioni temporali in montagna sulle alpi sulla dorsale appellinica coinvolte diciamo in parte anche le zone di pianura di Piemonte Lombardia le zone costiere della Liguria della Toscana del Lazio della Campania e poi molta variabilità anche sulle isole maggiori in particolare in Sardegna ma per tutti gli tagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo è tutto per stasera con il telegiornale di Nuvola TV che ritorna domani alle 20.30 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata